Vediamo la differenza tra i due macchinari del VistaScan MiniView e il VistaScan MiniEasy sono essenzialmente il display che il VistaScan MiniEasy non ha, quindi questa parte qua non ce l'ha e la differenza che per inserire le lastre, il VistaScan MiniView legge fino a 5 formati di lastrine, che sono queste mentre il VistaScan MiniEasy ne legge solamente due, quindi il formato 2 e il formato 0, che sono comunque i più utilizzati a differenza del VistaScan MiniView, nel VistaScan MiniEasy si va a rimuovere la copertura, per quando si cambia tipologia di lastra mentre nel MiniView è automatico, cioè si adatta da sola alla schermata Allora, invece la differenza per quanto riguarda la connessione al computer, il VistaScan MiniView ha una connettività sia Wi-Fi che con porta di rete LAN, mentre il VistaScan MiniEasy ha una connettività di rete USB e LAN Invece per quanto riguarda la differenza di risoluzione tra le due macchine, è esattamente uguale quindi questa legge le 22 peniline per coppia, risoluzione effettiva e idem il VistaScan MiniEasy